partito buonasera buonasera ciao ciao allora noi siamo il banana split siamo lieti di essere stati invitati qui al campi di festival e soprattutto di trovare gli amici di white travel e niente siamo cari che siamo belli pronti per allegrare e alleggerire i cuori con l'esilio dei cartoni animati dagli anni 70 agli anni 2000 40 anni di sede bellissime e perfetti vi potete immaginare quello che sarà il concetto tra poco tra pochissimo a parte a parte tutto noi siamo veramente contentissimi di essere qui insieme a voi avete da poco festeggiato 18 anni siete diventati anche maggiorenni possiamo andare in macchina senza problemi e possiamo anche avere un pochino di tutti e quindi il gruppo stasera ora ce lo presenterai te perché non ce l'avevi mai presentato il gruppo io purtroppo c'è problemi di memoria non so chi sono loro quindi il benessi presentino vi ricordo però aspetta tra un'ora circa e un'oretta qui al campi birre 2022 quindi non mancate e in diretta il concerto quindi e ora il nostro amico fabio ci presenti dai cruzi sì allora io sono fabio ma ha detto lui ciao io sono fabio cantante di banana e se l'hai ricordato alla mia destra c'è una versione non so chi sia io sono marco altro peterista io sono zonafa l'altro cantante io sono filippo batterista Matteo il bassista quello figo Carlotta la figa perché è l'unica mi piace vincere ma si può dire figa il senso ma il senso vabbè ormai è bella la bella del gruppo ok comunque ragazzi noi vi aspettiamo ora 10 e mezzo fino a tardanotte e ci buttano fuori ci buttano fuori siamo allora noi siamo prontissimi quindi tra un'ora circa come detto e un saluto a tutti a presto ma si può salutare come se sono di fa sempre al mio 3 1 2 3